ciao a tutti oggi mi trovo con giuseppe che è un nostro cliente di desio di vecchia data e a cui vorrei fare qualche domanda visto che ha approvato il nostro trattamento già da da qualche annetto ciao giuseppe ciao tu da quanto tempo ci conosci io mi conosco da circa quattro anni ecco quindi che problema avevi quattro anni fa che nelle mie camere erano sono esposte a nord e avevo un problema di muffa sì e ho il problema più grosso è che ho una figlia di allora quattro anni che è allergica alla muffa avevo fatto i soliti metodi empirici della candeggina ma non risolveva assolutamente e questo problema ricompareva ogni inverno oltretutto avevo ascoltato consigli vari e dove mi dicevano di fare pareti in cartongesso ma queste ovviamente coprivano la muffa ma il problema dietro rimaneva lo stesso quindi come ci hai trovato ti ricordi che sono passati quattro anni allora ho fatto ricerche su internet e ho trovato il vostro negozio che aveva dei prodotti adatti per risolvere definitivamente il problema della muffa quindi immagino che ti sei documentato su come funzionano questi prodotti ne abbiamo parlato insieme abbiamo stabilito un miglior trattamento possibile esatto quindi a distanza di quattro anni quindi sono passati anche quattro inverni che risultati hai ottenuto rispetto agli iniziati sono ottimi io non ho più avuto neanche una piccolissima macchiolina di muffa i muri sono caldi d'inverno e freschi d'estate mia figlia sta benissimo che è la cosa principale per la sua salute la temperatura della stanza era più caldo oltretutto una sera ho notato che anche il pavimento era non freddo ma tiepido la temperatura della casa ovviamente molto più calda e anche un risparmio energetico quindi domanda finale raccomanderesti diciamo il nostro trattamento basta muffa ai tuoi amici raccomando senz'altro ai miei amici e a tutti quelli che ci vedranno questo sul vostro sito che è un prodotto eccezionale con un costo direi normale o forse anche qualcosina un costo di più però senz'altro ammortizzato negli anni perché i risultati ci sono e bisogna davvero provarli ti ringrazio molto giuseppe ciao a presto